Salve a tutti ragazzi sono RobbyGamerSangilever ragazzi oggi continuiamo Continuiamo Call of Duty Infinite Warfare Prima c'è stato un problema che si è bloccato tutto Vi ricordate che non mi faceva andare avanti Ora ho riavviato la missione ed eccoci Ok Madonna Vabbè io ho rappresentato No Ciao Suga No ecco Porco schifo Non sapevo No Oddio le proporzioni ma non è che esistono Sti co Andiamo Aspettate Stiamo calmi Per i calmini no Porco schifo Oddio che scivolata Che figo No 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 Arta lì Arta lì che mi scappano Arta lì Arta lì Mi scappano Ma cosa Sei scemo Oddio no 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 Ma chi è Che schifo Ti odio Ah ma no 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 Me la vevo Non l'avevo visto Raga Non Avevo Visto Va beh Rifacciamo che meglio stavolta lo faccio bene no mi volevo fare il pro ce l'ho fatto che pro guarda lì guarda le guanti non ci capisco niente con schifo c'è un po inter raggiunto bene si no pure robot vero si ma come fa a portare sti cose no 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 si ma state che ha un morco schifo guarda cosa cosa dove la ah capito capito forza ah ok 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 buongiorno sono amichevole voglio giocare con voi non voglio farvi del male no non lo voglio fare buongiorno mori male donna porca schifo l'autodistruzione se lo faccio ok 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 fermo buono eh ah ok ah 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 uuuh eccolo qui si se vede il contello non è affidato tipo rotondo ma vado ma va fa uno preso c'è tutto il pro ma no oh mi dio la luce guarda che figata sta nave mi piace più questa che la nostra sinceramente buongiorno come la campanella è una figata ma che bello qua il nostro obiettivo è ancora tocca distruggere va bene ok ok va bene allora facciamo solo sta parte perché stavolta non posso fare lungo vai troppo qualcun altro quello no che posso fare c'è nessuno no ci attivo qui sotto lì sotto ci indica quanto per cento sta la nave si sta distruggendo ma chi deve colpire che non c'è nessuno tacci tua no tacci tua no non l'avevo visto non avevo capito che stava sopra sconnesso cioè tu guarda come va a fuoco che casino c'è che disconnesso è logico con tutti i borbandamenti c'è sopra la testa non capisco ah non capisco ah ok sembra tipo la funevia quello del trenti porca schifo che spaventino apri apri bene 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 levati levati allora roba 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 finalmente vediamo già ce l'ho già ce l'ho ok andiamo si da me qui eh guardate avanti guarda avanti c'è tipo il robot c'è i robot che c'è tipo gli spasmi ho fisse superte guarda non mi gusto signore con l'rpg andare eh no eh chi è che lancia? donna santa sto fucile migliore che c'è con la visione termica però comunque so che nei commenti dite sicuramente scriverete un giorno eh ma cambia il mirino sempre lo stesso sì ma sinceramente per me è molto più comodo questo qui è comodissimo però comunque lo cambierò un giorno forse schifo brava silter super complimenti devi stare dietro madonna quanto è scemo questo in kill of duty black off 3 ti aiutano cioè puoi anche stare fermo e te lo fanno tutto loro invece qui qui dove lo ammazzate invece no oh stai calmo è un pesante quello eh ahhh madonna tre kill triple kill con questo gt mi fa errore non mi fa entrare è come è bugato è bugato il gioco devo cambiare cassetta se riesco ad aggiustarlo capire è bloccato come fai ma dove farsi che ci vuole dai ma come come la prima missione raga vabbè madonna mi faccio oh dove qua è addosso porco allora allora se state i can possiamo risolvere tutto ok perché se no faccio ta 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 mori ci dove state amici non ci capisco niente arrivi il capitano sbrigati morco schifo non c'ho tempo andiamo raga si può uccidere tipo i tizi importanti quella tipo in giallo quella ecco sono le cose ok ok va bene penso che cioè sinceramente ragazzi mi sta cominciando a piacere no in senso di una puntata non mi ricordo quale mi faceva schifo usare la nave invece no mi sta piacendo ok dobbiamo distruggermi lo sapevo maledetto e qui molto cazzo oh ma te che cazzo era no ok questa qui scusate è appunto questa comunque sta durando molto non mi uccidete non mi uccidete minchiavolo è brutto basta capito me li vado che rompi ok 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 allora ora mi hanno rotto devo trovare ecco è brutto mi ha fatto un po' di brutto faremo in multiplayer quando abbiamo fatto questo ancora cosa vuoi da me no 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 non c'è più i razzi madonna non ci credo si deve ricaricare guarda come mi guarda tranquillamente senza aspettate aspettate eh si ma sono tre le navi madonna che rompi però no 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 un problema porco schifo aspettate raga che spengono perché la mia madre esiste zitter salt un'ora così cadere per me per me che dici logico ho capito sono più morto che vivo abbandonare la nave stai là ho capito la nove come ho detto non posso correre non posso correre no non posso che lo fa sicuramente devo abbandonare la nave per me le pietre 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 non ho capito che quello dentro c'è i tan ahia ho paura che sia morto raga m ma 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 è ero or ho ancora posso guarda l'infinsato con ragazzi sono per di aria pure no? per di aria e per di sangue c'è finissimo spaccato o no? no è schiattato è anche schiattato dalla perdita di sangue no non ce li credo niente nel voto per il cuore non ce le maschie diverse? vabbè ci mettiamo in cammino non so dove che figlia come un vest ecco ma io mi chiedo come fanno non è schiattato ciao dove cazzo sei figlio? ma stai calma ti ho fatto niente però come si fa a mangiare? stiamo... ah ma si sono tipo trasferiti! ah che figata! è un vantaggio! siamo vicino alla torre! non è schiattato! 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 bene! ha preso pure un altro robot! non è schiattato! ma è schiattato! perché c'è questa musica triste? Scusa ma non mangiano questi Prima dice ma che tu Dove sei finito Dove minchia eri E poi Vabbè Vabbè ragazzi possiamo concludere qui Cosa abbiamo? Sì sì cavoli Ma si è mancato Fammi Consigliato Se prendiamo questo Raga sinceramente lo voglio Mi spiace ragazzi per voi Che voi dice eh ogni volta che vuoi vedere Mi dispiace Il posto di questo ci prendiamo Il fucile a pompa guarda Senza niente No 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 E certo che ci si potrebbe violare L'elettrica Così va bene Volevi Volevi Ah Sembra Dovrebbe essere Ethan quello Forse Ma credo Va bene Va bene Va bene Non so così che è meglio Cosa abbiamo qui Sì Sì va bene Ok Va bene Va bene Ci vediamo Mi segue Mi segue Non ci credo Mi segue Ah no Mi sembravo Pronti a combattere FDS F S Porco Non mi ricordo più Va bene ragazzi possiamo concludere qui eh E ci vediamo ragazzi alla prossima puntata Ciao Ciao